Quest'anno siamo stati ad Eurobike a Francoforte, all'Italian Bike Festival a Misano, ma c'è un'altra importante fiera in Europa che si è appena conclusa, la Sea Otter a Girona. È andato il nostro collega Seba di GCN en Español e vediamo cosa ha scoperto. Via con la puntata! Questa è la Canyon Aeroad di Casha a Nieva Doma, la vincitrice del Tour de Femme a Vex Swift. È una bicicletta completamente gialla, personalizzata per la vittoria della Gran Bucle. Oltre al telaio vediamo anche tutto il gruppo SRAM con gli adesivi gialli, le ruote zip, anche esse gialle. Ma la cosa più interessante di questa bicicletta è il manubrio. Sappiamo bene che con Canyon bisogna un attimino adattarsi con i cockpit che vengono forniti come primo assemblaggio, però per i professionisti c'è la possibilità di scegliere dei manubri che hanno un attacco negativo, quindi per poter essere più bassi, cosa che attualmente non è disponibile per il mercato comune. Questa Scott Scale è davvero speciale perché pesa soltanto 5,8 kg senza pedali. In questa Mountain Max si è cercato di abbassare il peso in tutti i modi possibili e la cosa che colpisce di più ovviamente è il reggisella con sella d'aremo. Praticamente è un pezzo unico, non si può modificare arretramento e inclinazione sella è essenzialmente utilizzato solo per cercare di abbassare il peso più possibile. Non sono gli unici componenti d'aremo installati sulla bicicletta, c'è anche una guarnitura che è ancora un prototipo e un manubrio attacco manubrio, entrambi in carbonio, leggerissimi. D'aremo è un'azienda spagnola specializzata nella creazione di componenti carbonio super leggeri. Inoltre su questa bici per cercare di abbassare il peso sono state montate anche delle gomme poco larghe, appunto meno pesanti e dei cerchi in carbonio a basso profilo molto stretti. Resta il fatto che 5,8 kg per una bici da cross country ammortizzata, quindi con la sospensione interiore è veramente pochissimo. Nello stand di Darimo Seba ha trovato anche la bicicletta che ha utilizzato Pogacera nell'ultima tappa del Tour de France 2024, la cronometro di Nizza. È una con lago da cronometro, una bicicletta velocissima, venendo i risultati che sta ottenendo l'OAE da quando ha cambiato mezzo. Questa bicicletta è stata ulteriormente personalizzata con un reggisella appunto di Darimo che deve essere fatto su misura del telaio, perché ovviamente essendo, avendo una forma molto aerodinamica, deve essere costruito appositamente per questo telaio. Sopra reggisella è stata montata la nuova sella Prologo, anch'essa personalizzata con colori gialli, ormai si sapeva che Pogacera avrebbe vinto il Tour, quindi questa bicicletta è stata già colorata di giallo, così come le scritte con il nago. Un'altra bicicletta con ruota lenticolare, anzi ben due ruote lenticolari, è la Factor Hanzo Track. È la bicicletta che ha utilizzato la nazionale australiana alle Olimpiadi su pista. È una bicicletta utilizzata per l'inseguimento a squadre e l'unico obiettivo di questa bicicletta è andare dritto e farla nel modo più veloce possibile. Se la guardiamo frontalmente notiamo che la forcella è larghissima nella parte superiore e centrale per poi stringersi incredibilmente nella zona del perno passante che è molto più stretto rispetto ai perni passanti che troviamo sui bicicletti alla strada. Questo perché la ruota lenticolare anteriore è molto più stretta nella parte centrale, è realizzata da Black Ink, azienda Stelite di Factor, quindi hanno creato insieme questo progetto per cercare di tenere la lenticolare la più stretta possibile e quindi migliorare ulteriormente il cheeks frontale. Un'altra cosa curiosa di questa bici è il reggisella che si vede anche dopo essersi congiunto con il tubo orizzontale della bicicletta, infatti va fino in fondo dove il piantone si assottiglia. Non so bene come funziona la regolazione dell'altezza sella, però queste bici sono talmente personalizzate per l'utilizzatore finale che alla fine si farà penso un taglio brutale del reggisella all'altezza corretta e così rimane. Anche perché queste biciclette sì sono in commercio ma costano veramente una follia, l'anzo mi sembra che solo il telaio costi 65.000 euro, l'abbiamo spiegato in un video precedente, è stata fatta questa scelta per evitare che siano di facile acquisto per la concorrenza per poterle poi studiare. Quindi diciamo che più una bicicletta costa e più probabilmente ha innovazioni che non vogliono essere scoperte da altri. Cambiamo totalmente settore, passiamo dalla pista alla città, questa Brompton è il nuovo modello della bicicletta pieghevole più venduta al mondo. Sono tante le novità presenti su questo progetto, prima di tutto i freni a disco idraulici, cosa che prima non c'erano, vediamo tubi più spessi quindi più robusti e anche una possibilità di portare la bicicletta una volta chiusa molto più semplice. Sulle Brompton precedenti c'erano due rotelline molto piccole che giravano anche poco. Qui vediamo nella parte superiore della ruota posteriore quattro grosse rotelle che permettono di spingere facilmente la bicicletta come se fosse una valigia. Ovviamente rimane la grande qualità di questa bici che può essere piegata in qualsiasi punto per renderla veramente compatta ed essere riposta sotto la scrivania quando si arriva in ufficio. Seba ha trovato un brand di biciclette che non conoscevo, si chiama Cadiem, è il modello A1 questo presentato, è una bicicletta fatta a Taiwan, può essere personalizzata da tanti punti di vista e Cadiem oltre al telaio produce anche le ruote e i componenti come questo attacco manubrio e manubrio sdoppiati con cavi che passano all'interno ma anche manubri completamente integrati in carbonio. In passato per produrre dei grandi telaio bisognava essere ottimi saldatori perché si lavorava con i metalli, acciaio, poi alluminio, poi titanio quindi bisognava saper saldare bene questi telai. Poi è arrivato il carbone e quindi si è dovuto imparare a stendere bene le pelli di carbone e il lavoro diciamo maggiore è a monte della produzione vera e propria con una buona progettazione e creazione di stampi. Adesso si è aperto lo spazio anche per i falegnami. Lo vediamo con questa Ornus, una bicicletta trovata a Siotter ma realizzata nella Maremma. È una bicicletta in legno. Non è un pezzo unico ma i vari componenti del telaio vengono incastrati insieme con un'opera di falegnameria veramente pregevole. C'è la possibilità di acquistare il solo telaio, kit telaio oppure si può acquistare anche una bicicletta completa sia in colorazione lucida quindi solo con uno smalto protettivo sopra il legno oppure anche con una verniciatura che però lascia intravedere sotto le venature del legno cosa che ovviamente non va nascosta ma esaltata. Il peso del solo telaio è di circa 1,8 kg poi varia in base alle taglie va aggiunto poi la forcella e tutto il resto quindi si potrebbe arrivare ad avere una bicicletta finita da grave attorno ai 9,5 kg non male considerando il materiale utilizzato. Avrete forse notato che molti costruttori di biciclette mettono a disposizione degli utenti più bassi delle biciclette XXXS che hanno ruote di dimensioni inferiori rispetto ai classici 28 delle ruote alla strada o 29 per le mountain bike. Ecco, Dirty Sixer ha pensato anche a una soluzione per gli utenti più alti persone più alte di 1,90 m che con ruote piccole si troverebbero un po' a disagio avrebbero telai enormi con queste ruotine piccole che non starebbero molto bene. Hanno prodotto così una bicicletta gravel con ruote di diametro a 32 con annessi copertoni da gravel dello stesso diametro cosa che ovviamente non è facile da trovare creando così una bicicletta perfetta per le persone più alte rendendo tutto molto più equilibrato e più piacevole da guidare. Chi fa gravel da tempo si è raccolto che non è facile scegliere la pressione di gomme ottimale perché si può passare dall'asfalto in cui stava una pressione alta magari tra atmosfere e tra atmosfere e mezze a percorsi sterrati accidentati dove magari un'atmosfera e mezza è più che sufficiente anzi rende le cose molto migliori. Come fare quindi? È arrivato Grava, un sistema molto particolare praticamente è una pompa che si monta nel mozzo anzi un mozzo specifico fornito da Grava collegato a un tubo che arriva fino alla valvola comandabile dal manubrio tutto questo permette a chi guida la bicicletta di poter gonfiare e sgonfiare le gomme mentre si pedala e leggere anche la pressione sul proprio ciclo computer è una cosa veramente interessante che ovviamente aggiunge del peso alla bicicletta ma permette di avere sempre la pressione ottimale su qualsiasi tipo di fondo inoltre in caso di foratura con un sistema tubeless si perderà comunque un po' di aria prima che venga riparata la gomma e si può tranquillamente può azionare la pompa per tornare alla pressione ottimale senza doversi nemmeno fermare quindi un sistema veramente comodo per lunghi giri gravel è un sistema tra l'altro che è stato testato alla Paris-Roubaix di qualche anno fa dal team DSM non l'abbiamo più visto probabilmente il peso aggiunto è troppo rispetto ai vantaggi che può effettivamente dare ricordiamo che poi peso su un componente in rotazione rende le cose ancora più evidenti per l'utilizzatore quindi bisogna un po' vedere i pro e i contro però su una bicicletta da gravel turistica secondo me è una buona idea queste sono le cose più carine trovate da Seba Sea Otter si chiude così anche questo 2024 di fiere per GCN Italia vedremo l'anno prossimo cosa riusciremo a trovare nelle varie fiere in cui andremo se questa puntata vi è piaciuta mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video ciao